Fuori c'è già l'insegna, liceo scientifico Filippo Masci. Dentro ci sarebbero già alcune attrezzature, portate tra l'altro dal personale docente, ma non gli arredi. Dunque la nuova e agognata sede, dopo anni di spezzatino scolastico, ha finalmente una collocazione, l'ex caserma Berardi. Ma siamo sicuri? Non lo sono gli studenti, i loro genitori e il personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliare del Masci, che oggi infatti hanno indetto una manifestazione proprio in quella che dovrà essere la loro nuova scuola. La nostra preoccupazione è legata all'avvio del nuovo anno scolastico, perché siamo in fortissimo ritardo. Non ancora abbiamo una sede al momento e questa è la situazione. Oltretutto siamo qui su iniziativa del Consiglio d'Istituto, perché il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri hanno ritenuto opportuno rendere il più possibile pubblica questa situazione, perché ormai siamo arrivati a un punto quasi di non ritorno. Siamo dislocati da più di dieci anni su tre sedi. Questo ovviamente comporta un'organizzazione oraria molto difficile da affrontare anno per anno, con una questione che riguarda anche le famiglie, con i ragazzi che anno per anno devono sapere se la sede è quella di Chetiscalo o quella del seminario. Adesso, addirittura d'arrivo, sembra che non sarà disponibile per noi, per una questione meramente organizzativa, ritengo, da parte della provincia, che deve organizzare un trasferimento importante, che non riguarda solo la nostra scuola, ma anche il trasferimento di un'altra scuola. E la cosa non è facile. Sono Maria Di Fulvio, ho una mamma, ho fatto anche io questa scuola tanti anni fa, ci tengo, è una scuola bellissima, come insieme di professori e di programmi e di risultati per il futuro. Il problema è proprio logistico, noi genitori ovviamente non vediamo l'ora, è già dall'anno scorso che ci dicono che fra 20 giorni andiamo, fra un mese andiamo, e abbiamo anche bisogno, perché noi stiamo chissà a Chietiscalo, chi vive a Chieti, chi è alta, chi viene da fuori, anche per questioni proprio logistiche e per avere una scuola unita. Non abbiamo più una sede, la provincia non ci vede! Non abbiamo più una sede, la provincia non ci vede! Non abbiamo più una sede, la provincia non ci vede!